Con 32 voti favorevoli, PD, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Gruppo Misto e l'astenzione del Movimento 5 Stelle, è stata approvata la nuova legge regionale che disciplina i servizi erogati in farmacia. Il provvedimento è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. Nella sostanza noi adeguiamo la normativa regionale del 2000, la 16 del 2000, alle mutate normativa nazionale dal 2009 ha aperto alla possibilità di far svolgere nelle farmacie servizi diversi, servizi sanitari diversi e con questa norma anche in Toscana si apre a tutti i servizi che sono da un punto di vista normativo e quindi da un punto di vista leggi oppure anche di accordi stato-legioni eccetera eccetera, tutti quelli che possono essere servizi che possono essere erogati in farmacia potranno essere erogati anche in Toscana. Discipliniamo le modalità in cui devono essere organizzati gli spazi dicendo che devono essere spazi interni nella farmacia separati per garantire la privacy oppure spazi anche esterni alla farmacia purché abbiano questi requisiti, escludiamo soluzioni come gazebo, strutture precarie, salvo ovviamente situazioni di necessità come è stato per il Covid dove le aziende possono autorizzare e discipliniamo anche tutta una serie di passaggi burocratici cercando di snellirli, abbiamo cercato di eliminare tutti i passaggi non necessari con le quali le farmacie comunicano all'azienda sanitaria che effettua i controlli la loro decisione di avviare nuovi servizi sanitari all'interno delle farmacie. Insomma una norma che va a implementare l'attività che possono essere svolte dalle farmacie per i cittadini in maniera capillare su tutta la regione. Nell'ibattito seguito in aula i gruppi hanno espresso i propri punti di vista in merito alla nuova legge. Si è contraddistinta in quest'ultima fase storica soprattutto in tempo di Covid già sulle vaccinazioni come sui tamponi come diciamo sui servizi connessi per i quali è stata proprio la regione ad avvalersi di questa rete territoriale. La norma non fa un'elencazione puntuale di quello che la farmacia può espletare ma dice che tutto quello, tutta quella diagnostica che non necessita di un laboratorio di analisi quindi con delle caratteristiche molto puntuali può essere svolta direttamente nelle farmacie in particolare penso alla diagnostica da sangue capillare per esempio quindi non il prelievo di sangue ma tutta quella diagnostica la glicemia, il colesterolo e chi più ne ha più ne metta che può essere assolutamente monitorata attraverso un accesso in farmacia. È l'opportunità di dare e erogare servizi aggiuntivi sul fatto per esempio delle prelievi del sangue, sulla parte diagnostica, su alcuni elementi che possono essere e alleggerire il carico di alcuni cittadini nell'ambito dei pressi ospedalieri. Questo può essere fatto anche in locali adiacenti alle attuali farmacie è un investimento che non può essere obbligatorio per quanto riguarda le farmacie, è un auspicio di erogare servizi aggiuntivi e un'opportunità che la regione toscana consente sulla scia della considerazione oggettiva del fatto che le farmacie sono un presidio importante. L'intervento legislativo che propone la maggioranza e per il quale voteremo a favore è molto tiepido, in realtà ormai si sta sviluppando nel resto d'Europa, si sta sviluppando nel resto d'Italia un concetto di farmacia nuovo e moderno dove la farmacia non è soltanto un luogo dove si vendano e si comprano i farmaci ma è un luogo dove possono essere erogate prestazioni e servizi sanitari, è un avamposto territoriale soprattutto nei territori più sperduti o nelle periferie disagiate delle grandi città del servizio sanitario pubblico. Nelle farmacie dei servizi, la nuova e moderna farmacia dei servizi potranno essere fatte anche prestazioni di diagnostica di bassa e media intensità, potranno svilupparsi intorno alla farmacia ambulatori sia dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta ma anche di specialisti, potrà lì trovare sede lo psicologo di base, l'infermiere di famiglia, insomma una nuova farmacia che avvicina la prestazione e il servizio sanitario al cittadino, moltiplica i luoghi dove vengono fatte le prestazioni sanitarie, diminuisce le liste d'attesa e accorcia la distanza tra ospedale e territorio. Ci sono e stiamo spendendo tanti soldi nelle case di comunità e quindi rischiamo di avere delle sovrapposizioni, per lo meno in determinati territori, con la conseguenza di non sapere a chi rivolgersi. Per cui il voto è stato sicuramente positivo poiché inevitabilmente non è possibile non votare a favore di un presidio che possa essere un luogo di incontro per tutte quelle problematiche sanitarie che abbiamo. L'unico dubbio che mi resta è quello di come armonizzarle con gli altri servizi che già eroghiamo oppure stiamo per erogare in base al PNRR dove tanti soldi, forse fin troppi, sono stati destinati alla costruzione di mura senza prevedere chi saranno gli attori all'interno di queste mura. Dibattito in aula riguardo lo sviluppo infrastrutturale degli aeroporti in Toscana. Particolare attenzione rivolta all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze per Etola, a partire da una mozione sottoscritta dal consigliere della Lega Giovanni Galli. Nel 2009 quando sono entrato in politica a Firenze ero decisamente convinto che l'aeroporto andasse messo in sicurezza perché così com'è sappiamo bene che comunque ha delle difficoltà a prestare servizi. L'atto che ho presentato oggi è che dopo 15 anni credo che qualcuno abbia bisogno di avere delle risposte e siccome si sta facendo uno scaricabarile da una parte all'altra e nessuno si prende e si assume delle responsabilità, io credo che noi in qualità di consiglieri regionali in base alla risposta che ci è arrivata dalla Commissione del Ministero abbiamo un obbligo che è quello di disegnare il quadro di riferimento dell'area della quale stiamo parlando. Perché? Perché all'interno di quest'area non c'è soltanto l'aeroporto, ci saranno degli interventi del piano strutturale di Firenze, del piano strutturale di Prato, ci dovrà passare la tramvia, dovrà essere ampliato il polo scientifico, dovrà essere riconosciuto a Unipol che ha vinto la causa contro il Comune di Firenze di realizzare abitazioni per 2.000 persone, comprensive poi dopo di spazi pubblici, supermercati e quant'altro. Per cui credo che in tutto questo dire a Toscana Aeroporto e ENAC preparateci il master plan dell'aeroporto sia fuori luogo. Perché? Perché proprio la Commissione ci ha detto prima dateci il quadro completo dell'area, dopodiché secondo dello spazio che c'è disponibile ci rivolgeremo a Toscana Aeroporti per dirci come deve essere fatto l'aeroporto. Siccome prima vediamo le vigne, si pensa al vino, si pensa a un'opera che poi ci siamo accorti mancano i fondi e allora il vino non è più buono, è bene lasciarlo perdere e allora si pensa alle cupole, si pensa ad altro. Ma le procedure per arrivare a compimento e per dare sollievo soprattutto a quegli abitanti che da 30 anni aspettano delle risposte non è quello. Allora la procedura che io ho presentato in aula non è che io sono contro l'aeroporto, io voglio che questo aeroporto, vorrei scusatemi, vorrei che questo aeroporto fosse messo in sicurezza e dare delle risposte agli abitanti di Brozzi, Quaracchia e di Peretola che da tre stanni lo stanno aspettando. Questa procedura porterà avanti l'aeroporto per i prossimi 30 anni, per cui c'è qualcuno che c'è nato e ci morirà purtroppo con gli aerei che gli passa sopra la testa. I dati ci dicono che il polo toscano composto da Firenze e da Pisa sta facendo segnare livelli pre-Covid o addirittura di più a livello di numero di passeggeri, allo stesso tempo non ci nascondiamo sotto la sabbia, è necessario su entrambi gli fiscali, effettuare degli investimenti come quelli in programma, a partire dalla pista dell'aeroporto fiorentino. Ma senza dimenticare ovviamente i lavori sui terminal che sono altrettanto importanti, perché chiaramente un aeroporto è composto sia da dove decollano gli aerei, sia da dove si svolgono tutte quelle procedure che vengono fatte prima di montare sui velicoli. Quindi la notizia di oggi a mio modo di vedere è un centrodestra che in consiglio regionale è totalmente in ordine sparso su un tema che è un tema centrale dell'agenda di governo di questi cinque anni, di questa legislatura che era nel programma di mandato e che adesso è in attesa evidentemente di ulteriori sviluppi da parte dei ministeri. Italia Viva rimane il partito favorevole all'ampliamento della pista di Peretro e di Firenze, serve ampliare lo scalo aeroportuale di Firenze, serve migliorare, serve favorire un interscambio con le relazioni compise, serve una relazione internazionale per quanto riguarda la nostra città capoluogo di regione, rimaniamo a favore, convintamente a favore dell'ampliamento della pista di Peretro e dello scalo aeroportuale di Firenze. Una discussione che troppe volte ritorna sugli stessi canoni del dibattito in consiglio regionale, noi abbiamo sempre avuto la nostra posizione politica, siamo coerenti con l'ampliamento e con la possibilità di dare alla città di Firenze un nuovo aeroporto. In realtà gli aeroporti della Toscana, il mondo ha fame di Toscana, questo è un dato oggettivo, lo vediamo con le decine, le centinaia, i milioni di turisti che arrivano in Toscana ogni anno, sempre di più, anche fuori da quelli che erano periodi classici delle vacanze, cioè i mesi estivi. Il mondo ha fame di Toscana, la Toscana ha bisogno di un aeroporto intercontinentale, in questo momento in Toscana non c'è un solo aereo che atterra o che decolla in un viaggio intercontinentale da un aeroporto toscano. Questo rientra nella fallimentare strategia, nella fallimentare gestione infrastrutturale che la Giunta Gianni e chi lo ha preceduto ha avuto in questi anni, lasciamo stare Fipilì, Firenze-Siena, Corridoio Tirrenico e tutto il resto. Sull'aeroporto è la stessa cosa, negli anni si è pian piano indebolito l'aeroporto di Pisa senza che si rafforzasse quello di Firenze. Nel frattempo sta crescendo sempre di più l'aeroporto di Bologna che sta diventando, ahimè, sempre più spesso l'aeroporto di pertinenza per chi viene e parte dalla Toscana e va nel resto del mondo. La Toscana ha bisogno dello scalo intercontinentale. Dalla Toscana si deve poter andare e arrivare non rispetto a Monaco, Berlino, Parigi o Barcellona, ma con il Nord America, con gli Stati Uniti, con il Sud America, con l'Asia, con l'Africa. La Toscana deve poter parlare al mondo, deve poter dialogare col mondo anche attraverso i cieli, in questo momento lo sta facendo. Chiudo con una riflessione, un Amarcord amaro, da Pisa in sei ore si andava a New York. C'era il Pisa a New York fino a poco tempo fa. Adesso si va probabilmente a Londra e non più lontano di lì. Sono 46 i nuovi tutori volontari per minori stranieri non accompagnati che hanno superato la selezione dell'edizione 2024 partecipando al corso di formazione specifico organizzato da Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana Camilla Bianchi. A loro sono stati consegnati gli attestati dalla stessa Garante durante una cerimonia che si è tenuta a Palazzo Bastogi, alla quale ha partecipato anche il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. La Toscana è una terra in grado di accogliere, di saper accompagnare e quindi io oggi sono qui per dire grazie a queste donne, a questi uomini che in maniera volontaria decidono di destinare parte del loro tempo per i minori stranieri non accompagnati. Chiudiamo gli occhi e pensiamo ad una bimba, ad un bimbo che arrivano nel nostro territorio, che arrivano in Italia. A volte c'è qualcuno che con la cultura dell'allontanare non li fa sentire a casa propria. Noi invece vorremmo che queste ragazze e questi ragazzi si sentissero parte di una comunità, potessero crescere aiutati e supportati da altri cittadini del nostro paese che li fanno sentire a casa. questo è il bello, questa è la valenza. Io quindi quando mi è stato chiesto di essere qui ho detto subito sì perché la Toscana è terra di diritti, la Toscana è terra di accoglienza, la Toscana è una terra che non si volta dall'altra parte. La nostra festa della Toscana l'abbiamo dedicata a Don Lorenzo Milani e in quel I Care, in quel prendersi cura ci sta la nostra idea di Toscana. È con piacere che oggi la nostra regione saluta i nuovi tutori e le nuove tutrici volontarie di minorenni stranieri non accompagnati, formati da questo garante con un apposito corso di formazione ed una relativa selezione finale in temperanza alla disposizione numero 47 del 2017 nazionale in materia di protezione di minorenni stranieri non accompagnati. I tutori e le tutrici volontarie di minori stranieri non accompagnati sono cittadine e cittadini che a titolo volontario e gratuito presteranno il loro servizio nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione delle persone di minorità straniera in qualità di rappresentanti legali e di figure di riferimento per le necessità e i bisogni di tali persone che come sappiamo sono persone particolarmente vulnerabili, sono i cosiddetti vulnerabili tra i vulnerabili perché minorenni, perché soli e perché stranieri. Ecco quindi che il ruolo di tutrice e tutore volontario rappresenta un significativo esempio di cittadinanza attiva e dà il segno di un impegno sociale che rende le nostre comunità più responsabili, più civili ed inclusive, dà valore altresì il senso importante di quell'alleanza tra istituzioni e società civili che vivifica più che mai il vivere civile. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.